Siamo un po' un habitué di questo festival letterario perché sono tre anni che con la professoressa Berardi, professoressa di lettere della secondaria di primo grado Michietti Pascoli, portiamo avanti un progetto su D'Annunzio. Quest'anno abbiamo presentato un canto, un rap, un inno proprio su D'Annunzio che è stato scritto dai ragazzi della nostra scuola e poi musicato da una professoressa Core di Musica e il professor Cutilli. Il brano è stato già presentato a Gardone Riviera perché noi ogni anno a maggio partecipiamo anche al concorso di Gardone Riviera quindi la presenza di Giordano Bruno Guerri che ormai ci conosce quindi ci aspetta e abbiamo con lui un rapporto veramente molto di simpatia, di stima. Naturalmente è una musica che poi è vicina ai nostri alunni e quindi loro hanno saputo cantare questo brano anche semplice, simpatico, scritto da loro. L'anno scorso che abbiamo iniziato un lavoro sulla lingua dei segni con una professoressa che è proprio specialista su questo libro, questa cosa è anche portata avanti per tutto l'anno scolastico per cui questo rap verrà anche cantato con la lingua dei segni, i ragazzini hanno sommersetti di nero, hanno dei guanti bianchi con i quali, insomma, con le mani e con i guanti bianchi che faranno anche questo tipo di linguaggio.